Romina pover non perde occasione di viaggiare e ritrovare un po' di pace interiore. Lo fa spesso, e sembra che le faccia bene, poi torna sempre solare e piena di vita. La cantante è una delle star più seguite e conosciute dal pubblico internazionale, la sua voce ha fatto la storia della musica italiana, e insieme al suo compagno ed ex marito Albano hanno fatto vita a canzoni strepitose. Ancora oggi generazioni su generazioni le cantano e si lasciano travolgere dal vortice di emozioni che scaturiscono. A causa del covid i concerti sono fermi, ma non la loro passione musicale che è eterna. Romina pover, valigia pronta. Dove si va? Foto la valigia è pronta ma c'è qualcuno che non ne vuole sapere di rimanere a casa. Si tratta del suo piccolo cagnolino, compagno fedele di Romina pover che non l'abbandona mai, neanche nei momenti più bui. All'interno della valigia ci sono dei giocattoli, in molti si sono chiesti se la cantante stia andando a trovare sua figlia, che sta per partorire. Infatti virgola la figlia Cristela è incinta e la data prevista per il parto è settembre. Per la terza volta Romina e Albano diventano nonni e questa volta di una femminuccia. Gli altri due nipoti sono sempre figli di Cristela e il marito da Vorluxi con cui si è sposata nel 2016. Uno ha tre anni e si chiama Kai e l'altra Cassia Ilenia e ha cinque anni. Il nome è in ricordo della sorella scomparsa più di venti anni fa a New Orleans. Gli altri due nipoti sono sempre figli di venti anni fa a New Orleans. Gli altri due nipoti sono sempre figli di venti anni fa a New Orleans. Gli altri due nipoti sono sempre figli di venti anni fa a New Orleans. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.